Si chiama You Don't Know Me, Jax Jones nella City, adesso in diretta su M2O con tutti noi c'è Flavia Capone, la founder di letturemetropolitane.it, nonché finalmente volto giovane di Gigi Marzullo quando si parla di libri. Era ora che svecchiasse il parterre quell'uomo. Flavia, ciao! Ciao! Io stavo ballando per scaldarmi, perché stavo per strada, senta giacca. Perfetto, perfetto, la prossima volta dimmelo così ti mandiamo anche un cubo. Ma no, va benissimo. Senti, founder di letturemetropolitane.it, che hai preparato per noi? Allora, questa sera parliamo di un libro particolare, che si intitola La Piena, l'autore Andrea Cisi per Minimum Facts. È un libro, perché particolare? Perché in realtà è semplicissimo. La storia è quanto di più quotidiano e semplice potessero amare, perché è la storia di quest'uomo che ha una moglie, un figlio, una vita normale, il calcetto, cioè quanto proprio di... E voi direte, ma cosa c'è di interessante a leggere la vita di questo uomo? Aspetta che te lo dico, cosa c'è di interessante a leggere questa vita? Allora, la vita di Umberto in realtà è la vita di noi, ed è talmente scritta bene, raccontata bene, che diventa interessantissima e appassionante. Nonostante in realtà succedano poche cose, e si succedono tutte verso la fine e hanno a che fare un po' con questa Piena, di cui ti parla all'inizio. Ok. Non vi posso dire in che modo la Piena modifica la vita di Umberto, però vi assicuro che leggere una storia così semplice, così appassionante, non vi capiterà. Non vi è mai capitato, sono sicura di questo. No, ma guarda, devo dirti che mi fido assolutamente dei titoli che ci proponi, e ti spiego anche perché. La settimana scorsa tu hai parlato di Etica dell'Acquario. Sì. L'ho divorato in un viaggio verso Isernia, casa mia. Sono impazzita, quindi mi sono andata a comprare negli store digitali, quando riesco a trovarli, perché per me è più facile leggerli, tutti i titoli italiani che tu ci hai segnalato, e sto letteralmente diventando pazza. La notte ho ripreso a leggere, grazie a te. Bene, io sono contenta, perché mi piace parlare di scrittori italiani. Non perché gli stranieri non siano bravi, ce ne sono meravigliosi, però ogni tanto andiamo a ripescare, perché se no pensiamo solo che ci siamo fermati a manzoni. E non è così. Hai perfettamente ragione. Infatti, andando su letturemetropolitane.it e scorrendo soprattutto le ultime recensioni, lo guardavo prima, è molto bello vedere come tu riesci a sostenere i giovani, i giovanissimi scrittori italiani. Nel caso di Andrea, poi diciamo che è un diversamente giovane, perché è del 1972, quindi insomma è un mio coetaneo, e quindi è semplicemente diversamente giovane. Però finalmente torniamo a parlare di libri made in Italy. Senti, Flavia, intanto dove hai pensato di leggerlo questo libro? In quale metropolitana? Allora, ho piaciuto molto con la fantasia in realtà, perché ho affinato alla piena di Andrea Schisi il tunnel della Manica, sotto la Manica. Perché ho detto, la piena, tanta acqua. Dov'è che troviamo tanta acqua? Lì. E quindi me lo sono immaginato proprio con questo librino in mano sotto il tunnel della Manica. Se qualcuno si riesce, poi magari ce lo fa sapere. Senti, hai detto librino, quante fermate per questo libro? Questo librino, che non è un librino, perché è abbastanza imponente, e infatti ha vinto 30 fermate. Ah, sarò la 30, eh? Vi assicuro che la storia è veramente molto scorrevole, anche perché noi siamo il punto di vista di Andrea. Quindi, di Andrea, scusate, di Umberto. Di Umberto. Di Umberto. Viviamo praticamente nella sua testa. Ed è molto bello, veramente, perché in realtà i suoi pensieri sono quelli di tutti noi. Ma bene, ci hai convinto. La piena di Andrea Cisi, edizioni Mimunfax, e ricordiamo i tuoi contatti social. Letturemetropolitane.it il sito, letturemetropolitane Facebook e Instagram, letturemetropolal Twitter. Senti, infine ti chiedo, ma se hai capito quando vai in onda a Marzullo con i suoi libri? Perché questo appuntamento è diventato ballerino nel corso della settimana, no? Io vorrei che tu glielo facessi presente, la fidelizzazione è tutto. Sicuramente l'appuntamento è il sabato notte. Notte, ok, va bene. E' solo che non hai detto che ci sia io. Ecco, questa è l'unica variabile. Vabbè, fidati che ci sarai. Comunque, Flavia, come sempre, grazie perché riporti un po' di sana lettura anche dentro la Siti. Grazie a Flavia Capone, appuntamento la settimana prossima su M2O. Ciao! 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 M2O! You don't know me